Siamo 10 anni, matura 76, e c'è la referenza? Sette al turno, da 20 anche, eh? Tutti, benvenuti a board. So, I'm just going to do a safety speech. So, the two front windows are at the front, and the two are vehicle, and we're working really narrow conditions. So, and most importantly, I would like you to take all your body parts back home with you today. So, one of the questions that everybody asks is how does the bridge work? The bridge are on Thomas Telford's Ponte Crescente, I'll break that down. Ponte Crescente, aqueduct. Engineer named Henry Robertson, and built in 1848. The bridge is still on Shrewsbury. And eight meters resounds better. The aqueduct stands on 18 pillars of local stone brought down from the hills of Darkness. un altro acquedotto, quello che si chiama CERC, ed è sempre collegato a questo percorso dello shop CERC, ma qui dall'alto non riusciamo a vedere la struttura in se stessa. La struttura si vedeva a un monumento lì a destra e dedicato alla pietra locale che è una pietra calcarea ity. CERC, CONNA CERC, CONNA CERC, CONNA CERC. La prima volta avrà avuto due grigioni di sicurezza, poi avrà avuto due grigioni di sicurezza, poi avrà avuto la punta, e poi avrà avuto il risultato in basso e avrà avuto il risultato. No, c'è, se uno vuole può ancora scendere di più, però da qua si ha già un'idea. Che roba è? Cavolo. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per vederne altri.